gli occhi ovviamente l'astuzzo questo è con tutti gli strass mi piace tanto un bel ricordo ehi non hai sonno eh? immaginavo ascolta sono venuta a portarti una camomilla apposta la tua tazza preferita così ti rilassi un pochino ok? te la appoggia qui di fianco sul comodino d'accordo? volevo anche un pochino appunto sentire come stavi se potevo fare qualcosa per te mi ricordo bene il mio primo giorno di scuola quando ho cambiato scuola me lo ricordo bene però ero da una parte agitata dall'altra emozionata giusto? giusto giusto perché alla fine sai sono momenti che non si cancellano e devi semplicemente avere voglia di viverli è normale avrei paure giusto avrei un po' di paure insomma però non succede niente ok? non succede davvero nulla anzi goditi questa giornata cerca di fare nuove amicizie di conoscere tante persone allora lo sai che non riesco a star ferma volevo un pochino aiutarti e intanto si 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 vedi 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 un pochino amore ok molto bene vuoi un po' di coccolo sul viso? un pochino non ti va? non ti va d'accordo? allora senti allora aspetta ti ho portato anche il libro che stavi leggendo così adesso io ti faccio vedere cosa ti ho preparato per domani ti hai già preparato tutto lo so che sei indipendente ma ho pensato che solo per domani potevi entromettermi solo per domani promesso promesso quindi prima di addormentarti magari per calmarti un pochino o ascolti uno di quei video che ti piacciono tanto oppure leggi questo bel libro no? ma l'hai appena iniziato? bene bene ok e poi adesso ti faccio vedere degli outfit degli outfit che avevo pensato qualcosa di molto semplice ok? per chi lo so che se no tu arrivavi domani mattina e senza la minima di cosa mettere di top stress di andare in panico insomma quindi voglio evitare questa situazione il più possibile ok? tutto qui però so che ce la puoi fare semplicemente voglio essere d'aiuto quindi il libro ti lascio di fianco la camomilla ok? allora ti faccio vedere cosa ho pensato cosa puoi indossare poi ovviamente scegli te per l'amore del gelo allora ho pensato che potresti mettere questi jeans che ti stanno tanto bene questi qui a vita alta esatto e poi pensavo sotto potevi abbinarci l'ecommerce cosa dici? ok? sì quelle bianche che hai te le ho lavate ho pensato a tutto e poi sopra ho pensato a una magliettina semplice ho preso ho preso ho preso questa questa è la droga che ho preso a New York sempre questa con tutti questo mi piace tanto un bel ricordo sempre, sì domani che corda ok? ti ho preso domani che corda perché secondo me domani non ci sarà freddo poi magari ti prendi anche un giacchetto ok? e quindi ho pensato questo oppure questa maglietta che ti piace tanto questa qui con questa frase ok? il latino con questo disegnino disegnino insomma con questa illustrazione ispirata a Clint cosa ne dici? questa secondo me è molto carina può fare risaltare la tua personalità senza essere insomma eccessivi e la terza e invece questa semplice maglia bianca perché magari non volevi esagerare ecco volevi avere un look molto basic cosa dici? ok? beh se metti un maglietto bianco potresti anche mettere ad esempio una collalina lunga che è il tipo di quella col sole che ti arriva abbastanza lunga e poi se fai di presto questa aspetta questa qui quella con ami così ti fa compagnia anche domani e ti piace tanto ti presto questa quindi vuoi metterti quella bianca semplice ok? quindi magliettina bianca jeans e con vest bianca mi sembra giusto normale ok? secondo me adatto come look bene gli alchini di presto un paio mio ti piacciono? non so questi qui di presto questi oppure questi quali vuoi? oppure di presto ti posso prestare quelli tutti colorati va bene allora te li preparo domani martedì in bagno ok? così te li metti bene adesso ti faccio dire un po' cosa vuoi essere allo zeno d'accordo? ho pensato che domani non serve chissà che cosa nello zeno perché cosa farete? avete solo tre ore ok? aspetta questi li devo vestemarli comunque un po' sovratti che il tuo zeno mi piace il zeno quasi quasi te lo frego allora qui dietro pensavo ci può mettere le chiavi ok? di casa bene quindi semplicemente allacci e poi ti ho messo dentro vediamo ti ho messo dentro vi posso vedere allora questo questo è un quadernino per gli appunti semplice ok? secondo me per domani può andar bene e poi insomma vi tra i testi si serve qualcosa di più comunque quaderni lo sai ce li abbiamo ok e poi ti ho preso l'agenda ti ho preso l'agenda esatto mi avevi detto che non volevi il diario quest'anno quindi ho preso l'agenda e poi gennaio la cambieremo ok? questa gialla che so che ti metto di buon umore ok? poi ti ho messo questo ti ricambia non si sa mai magari si sporca l'aperti ti cade insomma e poi ti ho preso ovviamente il portafoglio ti ho messo anche un pochino di contanti se vuoi prenderti qualcosa le macchinette ecco ovviamente l'astuzzo ok non può mancare e poi ti ho preso il gelmani questo ti ho preso una mela ok? l'ho già lavata e accartucciata così non ti appesantisci e comunque se hai continua a aver fame puoi prendere sempre qualcosa d'accordo? dici che mi sono scurata qualcosa? no? ok spero di no allora aspetta prima di andare a dormire volevo fare ancora la ghiacchiera volevo un attimo stare con te aspetta allora prima ti metto ti metto un po' di burra labbra maschera labbra eccoci qua devo che te la dimentichi sempre però così ti sveglierei con le labbra belle idratate ok? sai che a me piace tanto? eccoci qua vai così benissimo benissimo ora posso farti le tue coccole? dai giusto un pochino ti prego aspetta passo le luci così magari riesci a dormire meglio riesci a far venire sempre meglio eccoci qua allora dimmi un po' come ti senti seconda cosa fa di domani conosci già qualcuno? sì ce l'ho presente sembra simpatico dai però guarda che io non conoscevo nessuno eppure alla fine lo sai ho trovato il mio marito e le mie miglior amiche quindi insomma non devi non devi farti abbattere da questa cosa anche se conosci solo una mezza persona non fa niente lo so che dura di cominciare dopo un'estate bella lunga intesa vacanza ti siamo divertiti hai fatto tantissime cose lo so bene però non senti che ho un po' e devi cominciare non ti va dai solo un pochino ammettila anche solo per non avermi sempre tra i piedi ecco e conoscere nuove persone imparare nuove cose vivere nuove esperienze vedrai che sarà meraviglioso quest'anno scolastico ok? ti dovrai impegnare io sarò sempre qui e ti dirò di impegnarti però la sai che credo in te tantissimo però voglio che tutto te lo vuoda anche ok? quindi studiare sì impegnarsi sì ma stressarsi no d'accordo ti stai lassando oh sono contenta sì sì non ti preoccupare dai che mummila in casa la bevo io se non ti va chiudi gli occhi chiudi gli occhi che domani mantiene un giorno importantissimo chiudi 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 di quegli occhietti meravigliosi chiudi 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 andrà tutto tutto bene sarà tutto meraviglioso più di quanto ti aspetti eccoci qua eccoci qua rilassati rilassati chiudi 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 gli occhi chiudi chiudi gli occhi ti voglio a proposito non te l'ho chiesto chi va domani a curazione vuoi il pane con i fichi ok vuoi il caffè o la tisana meglio la tisana domani ok il caffè forse è troppo vuoi anche il buon di nozzola tra i fichi bene perché ora pensavi di svegliarti ok allora te lo farò trovare pronto solo per domani ricorda però goditi queste attenzioni ok e lo sai che se sei un po' di editazione un po' di dubbi un po' di ansia un po' di pensieri negativi puoi sempre venire da me che io ci sarò sempre ok sempre per te sempre sempre pronta ad aiutarti e a farti stare meglio e ora chiudi gli occhi chiudili 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 chiudi gli occhi chiudi gli occhi e addormento di col sorriso che domani sarà una bellissima giornata eccolo lì questo sorriso addormento di col buon umore chiudi 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 ti meravigliosi occhi va tutto bene andrà tutto tutto bene andrà tutto 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 bene andrà tutto bene tutto bene tutto bene eccoci qua buonanotte 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 Grazie.